Musica Di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovate questa edizione del nostro telegiornale scattata questa mattina all'alba Trieste l'operazione Crazy Shooting per individuare tutti i responsabili della sparatoria avvenuta lo scorso 4 settembre in via Carducci al momento gli indagati sono in tutto 13 7 persone in carcere, 4 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, 13 in tutti gli indagati questi gli esiti della complessa operazione Crazy Shooting della squadra mobile della Questura di Trieste scattata a seguito della sparatoria avvenuta lo scorso 4 settembre in via Carducci nel capoluogo Giuliano allora tra un bar e la strada furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco in seno a una spedizione punitiva che ha visto protagonisti membri di due famiglie la Islami e la Krasniqui i cui rapporti erano pesantemente incrinati da tempo una dozzina le persone che erano rimaste ferite alcune in maniera anche molto grave tutte appartenenti alle due fazioni rivali per puro caso i colpi di arma da fuoco non hanno raggiunto persone strane al regolamento dei conti dopo i primi fermi e i primi arresti questa mattina i poliziotti Giuliani hanno eseguito 22 decreti di perquisizione emessi dal PM titolare del fascicolo processuale Chiara De Grassi gli agenti hanno notificato anche 4 provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno e un diniego al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo emessi dal questore di Trieste fondamentale la collaborazione della cittadinanza con numerose testimonianze anche video le attività di controllo del territorio relativa alla sparatoria sono tuttora in corso per fare piena chiarezza sulla vicenda e sulle responsabilità delle persone coinvolte c'è stato un incidente mortale poco prima delle 7 di oggi sull'autostrada in A4 nel tratto tra Sanstino di Livenza e il nodo di Portogruaro verso Trieste un mezzo pesante ha sbattuto contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata il conducente è deceduto forse a causa di un malore sul posto la stradale, i sanitari, i vigi del fuoco i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete che ha fatto defluire il traffico proveniente da Venezia nell'urto l'auto articolato ha diverto alcune barriere che ora dovranno quindi essere sostituite nelle ultime 48 ore tra Campoformido e Malborghetto sono state rinvenute tre bombe di aereo quella trovata in Alto Friuli in particolare di grandi dimensioni e in esplosa una bomba di aereo in esplosa è stata rinvenuta ieri pomeriggio semissommersa dalla Ghiaia del Fella nel territorio di Malborghetto a Valbruna avrebbe le stesse dimensioni di quelle rinvenute a Chiusaforte sempre in un corso d'acqua nel 2017 che richiesero un vasto spiegamento di forze per la loro rimozione l'area è stata immediatamente isolata per evitare l'avvicinamento di persone al residuato in attesa che la bomba venga rimossa in sicurezza e fatta brillare dagli artificieri sul posto i carabinieri della compagnia di Tarvisio la problematica in questo caso come accadde a Chiusaforte è legata alla relativa vicinanza alle principali arterie di transito e di scorrimento la strada è stata alle 13 Ponte Bana l'autostrada A23 la ciclovia Alpe Adria il punto in cui è stata trovata potrebbe essere relativamente vicino anche ad alcune abitazioni non c'è comunque pericolo per le comunità a Campoformido poi nei giorni scorsi durante alcuni lavori per la posa di opere e i drauli che sono stati ritrovati altri due ordini bellici presumibilmente si tratta sempre di due bombe di aereo di fabbricazione italiana gli operai hanno informato subito le autorità e la zona è stata immediatamente messa in sicurezza in attesa della bonifica si è concluso nella notte il complesso intervento di rimozione dell'auto cisterna contenente gas butano che nel primo pomeriggio di ieri era finita fuori strada occupando parte della ferrata nel comune di Bertiolo all'altezza del ponte sulla Napoleonica il mezzo speciale dei vigili del fuoco proveniente da Mestre ha ultimato il travaso del gas attorno alle 4 di questa mattina per poi dare la possibilità al personale di FVG strada di bonificare la carreggiata prima della riapertura al transito che è avvenuta questa mattina si è conclusa nel Salone del Parlamento in Castello a Udine la presentazione alla stampa del Caravaggio di Udine la tela donata dal nobile Francesco Fistulare nel 1852 restaurata dai civici musei del capoluogo friulano l'opera realizzata tra il 1571 e il 1610 denominata San Francesco in Estasi o San Francesco che riceve le stigmate è attribuita al grande maestro del rinascimento Michelangelo Merisi negli ultimi anni però un acceso dibattito ha messo a confronto il quadro di proprietà della parrocchia di San Giacomo di Fagagna con il suo gemello americano ora custodito nel museo statunitense di Hartford un dilemma ancora da sciogliere ma non è escluso che entrambe le tele possano essere state realizzate dallo stesso Michelangelo in giovane età attualmente gran parte della critica moderna ritiene che l'opera autentica sia quella americana giunta grazie ad un antiquario triestino ma diverse analisi hanno dimostrato che la tela friulana risale certamente alla fine del 500 ed oltre a questo dato esiste un carteggio ben preciso sulla proprietà della tela ceduta alla parrocchia di Fagagna risalente addirittura alla 1607 la cultura è un fattore chiave per lo sviluppo dell'economia e per crescere e sviluppare le imprese culturali e creative del Friuli Venezia Giulia devono ampliare i propri segmenti di attività avvicinandosi e collaborando con le aziende tradizionali per le realtà culturali realizzare eventi e presentare la propria attività all'interno di fiere e luoghi tradizionalmente avvocati al business e quindi un passaggio simbolicamente importante che conferma la capacità del territorio di generare imprese di successo anche in ambito creativo i campi d'azione delle realtà culturali sono vasti e molteplici e questa complessità è un patrimonio importante per generare collaborazioni e partnership con aziende operanti in campi molto diversi in sintesi è questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alla cultura e sport durante la seconda giornata dei Creative Days l'iniziativa organizzata dalla regione e dal cluster cultura e creatività con gli incubatori d'impresa parchi e poli tecnologici regionali come Aran Science Park Bic Incubatori FWG Friuli Innovazione Informeste Polo Tecnologico Alto Adriatico con l'obiettivo di valorizzare il ruolo che hanno le imprese culturali e creative nello sviluppo economico del territorio l'assessore Gibelli è rimarcato come Pordenone Fiere abbia compreso che i Creative Days rappresentano un momento per lo sviluppo delle imprese e delle opportunità imprenditoriali della regione proprio per questo motivo il prossimo anno si terrà la prima fiera regionale dedicata alle industrie culturali e creative realizzata anche grazie al progetto Interreg Questa sera dalle 21 su Telefriuli andrà in onda il confronto tra i quattro candidati sindaco del comune di Pordenone confronto organizzato dalla nostra emittente in vista delle comunali dei prossimi 3 e 4 ottobre appuntamento dunque alle 21 per seguire il dibattito Da un'idea del fuoristrada club Tolmezzo è nato l'Ecotour Carnia 4x4 che ha portato 149 passeggeri anche da Olanda Stati Uniti e Svizzera con difficoltà nella mobilità a visita della montagna friulana L'Ecotour Carnia 4x4 è una manifestazione turistica nata da un'idea del fuoristrada club Tolmezzo con lo scopo di aiutare le persone con difficoltà nella mobilità a raggiungere località che normalmente sarebbero loro interdette A bordo di confortevoli fuoristrada ecologici hanno la possibilità di visitare alpeggi rifugi montani e sentieri Il servizio EcoTour Carnia 4x4 è nato nel 2009 e nel corso degli anni ha avuto vari marchi e veicoli 4x4 come partner I percorsi hanno visto la partenza da Tolmezzo per arrivare a Verzeni Sauris e Le Malghe con l'aggiunta di una novità che ha portato alcuni turisti a visitare il Monte Festa teatro di battaglia nella Grande Guerra L'EcoTour ha preso il via Luglio e fino a settembre ha effettuato 39 gite per 149 passeggeri provenienti da Italia USA, Olanda Slovenia, Svizzera Dal 30 ottobre al 4 dicembre torna il volo del jazz organizzato dal Circolo Controtempo al teatro Zancanaro di Sacile con nomi di spicco come quello dell'ospite speciale del 21 novembre Vinicio Caposela Torna l'appuntamento con il volo del jazz il festival organizzato dal Circolo Controtempo giunto alla 17esima edizione curato dalla direzione artistica di Loris Nadal sei concerti in cartellone da sabato 30 ottobre al 4 dicembre che si daranno al teatro Zancanaro di Sacile protagoniste le grandi stelle del jazz come nel DNA del festival quest'anno sono attesi i concerti di big quali il trombettista statunitense Theo Crocker sabato 30 ottobre il cattante jazz statunitese Kurt Elling che si esibisce con la Sinfoni Orchestra dell'Accademia Musicale Naonis il 5 novembre il trio guidato dal pianista compositore e arrangiatore londinese premiato ai Grammy Bill Lawrence sabato 13 novembre e poi la band del batterista tedesco Wolfgang Hafner sabato 27 settembre che presenterà il suo ultimo album fino alla serata conclusiva dai ritmi caldi e avvolgenti con il pianista cubano Omar Sosa e il maestro di core e cantante senegalese Seku Keita che chiuderà il 4 dicembre special guest Vinicio Caposella che domenica 21 novembre riproporrà in esclusiva per il nord est il suo primo disco a lune 35 circa a 30 anni dall'uscita ci fermiamo qui vi lascio tra pochissimo agli approfondimenti con a voi la linea grazie per aver seguito il nostro telegiornale l'appuntamento per la prossima edizione flash delle 16 e 30 buon pomeriggio a presto a presto Grazie per la visione!